Ciao, sono Lorenzo Guslandi, sono quattro volte campione del mondo di battinaggio e sono un atleta diabetico, anche cediaco. All'età di tre anni, nel 2001, mi è stato diagnosticato il diabete tipo 1 e da lì ho subito capito che sarebbe diventato un po' il mio compagno di viaggio per il resto della vita. E quindi i miei genitori subito mi hanno portato verso una vita attiva e sportiva perché hanno subito capito che comunque lo sport in qualche modo mi avrebbe aiutato e con l'esperienza abbiamo scoperto che effettivamente lo sport aiutava nella gestione della glicemia, che fosse un po' più elastica, un po' più tranquilla, riuscire a controllare meglio quelli che sono i picchi iperglicemici e quindi comunque avere un andamento glicemico migliore. Così ho praticato diversi sport durante la mia infanzia fino a trovare nel pattinaggio la mia strada e quindi iniziare a fare gare, campionati, appassionarmi sempre di più. Quello che volevo era pattinare, però ovviamente dovevo fare i conti anche con il diabete e quindi ho costruito la mia vita, la mia routine, la mia quotidianità tra sport, diabete e anche in mezzo naturalmente il cibo e i carboidrati, quello che mi serviva per performare al meglio. In questo modo, grazie anche alle tecnologie, al microfusore, al sensore e alle prove glicemiche prima che ci fosse il sensore, ho capito il mio andamento glicemico, cosa avevo bisogno durante le giornate, come ne avevo bisogno e come poi mi facevano stare, quindi anche mi portavano in iperglicemia, quindi avevo uno stato d'animo un po' più arrabbiato, in ipoglicemia, quindi non riuscivo più a pattinare, quindi disastro, come riusciamo a risolvere la situazione e ho capito che il diabete mi stava insegnando qualcosa, mi stava insegnando a capire il mio corpo. Ogni tanto la glicemia esce fuori dai propri schemi, può succedere, è normale, esce fuori strada e cerchiamo di rimetterla dentro, però in questo la tecnologia, lo sviluppo del microinfusore, del sensore ha aiutato tanto negli anni e quindi adesso il monitoraggio continuo della glicemia mi aiuta tanto nel capire come un certo tipo di attività, di comportamento influisce sulla mia giornata, quindi senza anche dover essere per forza un campione, capire che è una semplice passeggiata post pranzo, una piccola attività, un po' di sport durante la giornata aiutasse il mio corpo, era fondamentale e quindi anche a latere di quello che era l'attività sportiva agonistica, mi piace magari camminare quando viaggio in giro per il mondo, sia per gare o anche per piacere, mi piace fare attività sportiva e spesso anche la mattina, non so come mai, però mi piace iniziare la mattina nel verso giusto, quindi coi pattini in piedi o comunque facendo un po' di attività sportiva e quello che voglio dire è che poi è stato così importante la tecnologia all'interno della mia vita, il sviluppo, il microinfusore, la cosa forse più importante è quello che ha avuto il cambiamento maggiore che ogni 17 marzo io lo festeggio come un vero compleanno, candeline, torta senza glutine, regali no, però il regalo è la torta, quindi ci mangiamo la torta bella in famiglia, festeggiamo il microinfusore che quest'anno ha compiuto 18 anni. Chiunque dovrebbe fare attività sportiva, attività fisica perché aiuta, perché vi fa stare meglio, vi fa sentire meglio e a livello diabetico anche vi permette di avere una gestione della glicemia più elastica, meno picchi glicemici, sicuramente più lievi. Ho capito che stavo facendo tante cose legate al pattinaggio, legate a come stavo crescendo interiormente, come stava crescendo la mia esperienza e volevo metterle nero su bianco, quindi quando ho finito la mia laurea tornavo dall'europeo, tornavo dall'europeo e il giorno dopo mi laureavo in magistrale e il giorno dopo ho deciso di scrivere un libro, perché era il momento che avevo un po' di relax, un po' di respiro e quindi ho detto voglio metterle nero su bianco quello che sto facendo e quindi ho deciso di scrivere speciale normalità come il diabete, ciglia, chiamano, hanno fatto di me un campione, che presto sarà pubblicato, è già pubblicato ma in preordine, quindi a giugno ufficialmente usciva finalmente, quindi non vedo l'ora di poter condividere la mia testimonianza, il mio pensiero e anche quello che, non so, la forza che gli avete tirato fuori da me e poterla condividere con gli altri, poter ispirare anche altre persone a far di meglio e perché no magari loro ispireranno anche altre persone nel futuro, quindi si creerà una catena continua.